In occasione del lungo ponte del primo maggio, Manet Mobile, la start-up del turismo che ha permesso agli alberghi di sostituire il telefono in camera, dotando le strutture alberghiere di smartphone con internet e chiamate illimitate, con i quali ai turisti è possibile prenotare sia servizi in camera che fuori, ha effettuato una fotografia delle presenze turistiche nelle più importanti città della penisola. A Roma, forse anche in vista del ritorno di Champions League, il maggior numero di turisti è proveniente dall'Inghilterra, seguiti dagli americani. Il 59,5% sono maschi, il 40,5% femmine. Il 34% ha un'età compresa fra i 30 e i 45 anni, il 31,1% fra i 18 e i 30, il 25,3% tra i 45 e i 60 anni, solo il 9,6% ha più di 60 anni. A Venezia, invece, continua Manet, i turisti provengono principalmente dagli Stati Uniti e dai paesi asiatici. Il 58,2% sono maschi, e il 41,8% femmine. Il 41,8% ha tra i 30 e i 45 anni, il 33,9% tra i 18 e i 30, il 18,1% tra i 45 e i 60 anni, solo il 6,2% più di 60 anni. Il monumento più visitato è stato Piazza San Marco. A Milano boom di visitatori provenienti dal Brasile e dagli Emirati Arabi Uniti. Il 62,1% maschi e il 37,9% femmine. Il 53,4% è fra i 30 e i 45 anni, il 24,1% tra i 45 e i 60, il 20,7% tra i 18 e i 30 anni e il restante più di 60 anni. Il luogo più visitato è stato Piazza del Duomo. A Firenze, infine, conclude l'analisi di Manet Mobile, il turismo di questi giorni, parla principalmente italiano e americano. A differenza dell'altra città, poi, i turisti sono principalmente femmine, 66,7%, contro il 33,3% dei maschi. Un altro dato in controtendenza rispetto alle altre grandi città, è quello sull'età media. A Firenze, infatti, il 45,6% tra i 18 e i 30 anni, solo il 29,8% tra i 30 e i 45, il 17,5% tra i 45 e i 60, mentre il 7% più di 60 anni. Il luogo più visitato, infine, è stato la Galleria degli Uffizi.